Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Andrink e benvenuti in questo nuovo spacchettamento. Se devo essere sincero, il Regno Glaciale era una di quelle espansioni che attendevo, ed oggi abbiamo ben 5 pacchetti più il set allenatore fuori classe. In realtà avrei altri 5 pacchetti, ma dato che sono artwork li tengo da collezione. Un set che però mi rammarico di aver saltato, ma che potrei ancora recuperare, è stile di lotta, ma lo recupererei giusto per puro gusto personale. Però attendo la prossima espansione, quella con Eevee, quella la attendo davvero, davvero con impazienza. Ma passiamo alle cose più importanti. Eccolo qua il nostro set allenatore fuori classe, direi di aprirlo. Eccolo qua, tiriamolo fuori. Perfetto. Aha, qui c'è la guida per imparare a giocare. E ci sono anche tutte quante le carte di questa espansione. Ah, ma c'è anche Blaziken. Ho appena tolto la messa a fuoco automatica, perché vedevo che era un bordello. Ora apriamo la confezione del set allenatore fuori classe. Abbiamo ovviamente le sleeve. Un codice che se volete è vostro. Carte energia, ma non ci interessano. A meno che non volete giocare competitivamente. Segnalini e dadi. E i nostri bei pacchetti. Ah, guarda quelli. Più i 5 sono menzionati. Direi di iniziare a spacchettare. Ovviamente io apro le carte male, perché se no non sarei io. Cominciamo bene. Eccolo qua. Il codice, se lo volete, è vostro. 1, 2, 3 e 4. Insomma, facciamo un attimino un po' il trick, no? Per vedere se troviamo qualcosa di interessante. Io non è che cerco la rarità o il prezzo alto della carta, ma... Insomma, trovare qualcosa di bello fa sempre piacere. Abbiamo Clobopus. Abbiamo l'energia oscurità. Abbiamo Sofora. Ah! Uh, sia Leo. Carino. Rudy. Squat. E Wheezing. Ah, carino. Vai, secondo pacchetto. Ah, questo ha aperto già. Oddio, un po' meglio. È una parola grossa, però... Però sì. Sempre con il trick iniziamo un attimino, poi dopo magari facciamo una cosa un pochino più veloce. Inkay, Larvesta, Diglett, Furfrù, Bounce Fleet, Energia, Elettro, Corno e Keggiante, aspetta. Prendi un Pokémon base dalla pila degli scarti del tuo avversario e metti lo nella sua panchina. Ok, è un po' strano, ma... Fermezza di Karen, attenzione, Hatrem, Yamask di Galar e Passimian. Ah, aspetta, però, questo mi piace. Aha, questa però posso aprirla bene, se volessi. Ma non potevo, a quanto pare. Codice, ovviamente. Trick e ballacche. Abbiamo Heracross, bellissimo. Questa l'avevo vista prima quando ho aperto il pack ed è stupenda. Mi sto ancora un attimino esercitando qui con le cam a vedere come posso un attimino migliorare la resa. Oh, ma... Ah no, era solo l'ombra della mano. Abbiamo solo King di Galar e Kecleon. Avevo visto qualcosa di nero, pensavo tipo fosse una V-Max o una V, una cosa del genere. Invece non era solo la mano, nessun problema, però... Ho giù un accento un po' strano. Giuro che riuscirò ad aprire un pacchetto bene. Ci provo. Codicino, se volete. Uno, due, tre, quattro, due. Atenna, Kabfu, Gastly, Castform, Forma, Nuvola di Neve, Shappet, Energia Lotta, Cristallo di Bruma. Eh beh, sì, insomma, serve se fai il mazzo psico. Rotolo dei Cieli, colpo rapido, eh beh. Ah, Robustelmo. E Rillaboom. Oh! Aspetta, aspetta, bello Rillaboom. Molto, molto carino. Ah, cura Pokémon da 30 danni, non male. Non è che ne abbia poi molti. Vai, un altro pacchetto. Allora, stavolta lo apro... Bene, ci provo, eh. Ci vorrà un po', ma ci riuscirò. Da sotto, forse? No! Ma era già rotto. Ma che palle. Vabbè, prossimo pacchetto ci provo, dai. Codice. Oh! Oh! Ho sentito del ruvido! Eh sì, ho sentito del ruvido! Sobol? Atenna? Kabfu? Gastly? Oh oh, sì sì, si vede del ruvido. Energia fuoco, energia spirale. Collina da in albero. I Pokémon sia che tu hai, che il tuo avversario non possono essere curati. Ah! Vabbè. Ma quindi neanche con gli attacchi? Ah! Slowpoke di Galar e... Aspetta. Non è una fuori serie. Però, però, aspetta, voglio un attimino vedere... Cos'è, cos'è? Il tipo, il tipo... Buio. Colpo singolo? Oh! Slowking di Galar VMAX! Carinissima! Molto, molto bella! Hai capito che roba! Davvero, davvero carina! Piace! Molto, molto bella! Davvero! E la prima VMAX, ragazzi! Aspetta, dai una tossicità, fa paura! Il Pokémon attivo del tuo avversario viene avvelenato! Metti 12 segnalini danni invece di uno durante il controllo del Pokémon! Cioè, lo devasti! Wow! Molto, molto bella! Questa sliviamola subito! Usiamo le sleeve adatte! Eccola qua! Mettiamola dentro! Piano, pianino! Sleeve adatta! E via! Bene! Continuiamo! Ci prendiamo un attimo! Oh! Sì! Sì! Eccolo! Ce l'ho fatta! Oh yeah! No! Ma no! Vabbè! Diciamo che è andata bene! Diciamo comunque che è andata bene, dai! Codicino! Trick fatto! Blitzel! Abbiamo Lapras! Bounce Sweet! Venipede! Ralts! Energia acqua, ovviamente! Cristallo di Bruma! Tuakki! Savory! Energia fortuna! E Taurus! Colpo singolo! Ma aspetta! Energia fortuna! Se il Pokémon a cui è assegnata questa carta è in posizione attiva e viene danneggiato da un attacco di un Pokémon del tuo avversario, anche se viene messo KO pesca una carta! È mica cotica! Voglio dire, non male! Codice! Ho sentito qualcosina ma non azzardo! Atenna, Castform, Globopus, cose già un pochino già viste Lediba, Energia, Sentiero Biancacima Perfetto Abbiamo Tanya, pesca una carta per ciascuno dei Pokémon V nella panchina del tuo avversario Guanti spacca tutto? Ok, un attimino voglio... Ah, dai un albero che abbiamo preso... Oh! Tapufini! Tapufini! Colpo rapido! Ah! Interessante! Interessante, sì! Mi sono un attimo letto Guanti spacca tutto e... Però funziona col Pokémon attivo acciaio dell'avversario In questo set non mi pare ci sia molto acciaio Nel set precedente? No! Pacchetto devastato Codice 4, 1, 2 Abbiamo Rockcraft Atenna Sfil Manca solo Sialio No! Walrein Sialio già l'abbiamo trovato Eracross Energia acciaio Ah! Allora... Ah! Ma allora c'è! Collina da in albero Drizzle O Drizzail Se preferite Shappet E Sandaconda V Ehi! 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 Sandaconda Ho trovato anche la V Max se non erro Cari... Comunque sia sempre bella sta carta Oh ragazzi Sandaconda A me piace come Pokémon Poi non so voi ma a me piace davvero tanto Questa Slivatina subito Chi sono io per proibire la Slivatina? Ah mi sa che pacchetto migliore aperto è questo Ok codice 1, 2, 3, 4 1, 2 Abbiamo Swirlix Rockcraft Marif Grookey Porygon Ah! Energia elettro Raboot Porygon 2 E a sto punto Energia fortuna E Diglett E anche Serfage di Galar Ah! Serfage già ne ho trovato un altro Abbiamo altri 4 pacchetti Altri 4 pacchetti Se volessi potrei prendere anche gli altri Ma gli altri no ritengo da artwork Da collezione Eh eh A questo punto se posso giusto azzardare un pochino Vorrei trovare un blazy can Insomma anche una V Non per forza una V max voglio dire Non è necessario una V max Tanto troviamo altre carte nuove Mi fa sempre piacere Ah! Crabominable Salve Fiammetta Bene Haunter Oh! Urshifusingo il colpo Ah! Va bene E Dagtrio Ma non l'ho trovato prima Dagtrio Vabbè Comunque sia Urshifusingo il colpo Mi piace Terzo ultimo pacchetto Abbiamo il codicino Uno due tre e quattro e uno e dos Via Castform Farfetch di Galar Weedle Sneasel Grookey Energia Sofora Sialio Rudy Ceklion E Weezing di Galar Però mi interesserebbe un attimino di più che sto Ceklion Che prima proprio l'ho snobbato alla grande Buta colore Ovviamente Attacco rotante Che fa un gran danno poi 90 Penultimo pacchetto Codicino Uno due tre e quattro e uno e dos Abbiamo sobble Era grosso Sempre bello vederlo Aspetta Has uno come Arthur Vabbè Bello comunque ragazzi Quarigono Farfetch di Galar Delibird Energia elettro Sentirò Biancacima Che dovevo leggerla prima non l'ho letta Energia e impatto Latania Ah Scorbanni Volcarona Ah però Abbiamo un bel po' di Pokémon fuoco qui eh Perfetto Ultimo pacchetto del destino Interessante Codice Eccolo qua Ci siamo? Scorbanni Diglett Inkay Kabfu Bounce Bounce Energia Sialio Rudy Cristallo di Bruma Volcarona Attenzione sotto c'è Oh sotto c'è una V-Max C'è una Ah no È un allenatore Però è quella Rainbow Attenzione 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 Chi è? Fermezza di Karen Oh Full Art Ah Eh sì perché quella Rainbow Full Art ha un altro Artwork No Bellissima Sia Karen che la carte Davvero davvero bella L'Artwork è fantastico Contentissimo di aver trovato una Rainbow Nei pacchetti coperto poi Bene 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 Allora di questa espansione Forse apro qualcos'altro Nel corso delle prossime settimane Per quanto invece riguarderà L'espansione di Eevee Quella davvero mi sa che aprirò Un bel po' di roba Ho visto dei set davvero Interessanti E mi piacciono tantissimo Anche le carte che ci sono Ma il bottino Non so A me Rarità Senza rarità Non me ne può fregare di meno Però sono contento di aver trovato Una Vimax e una Rainbow Insomma Full niente male devo dire Certo Se avessi trovato uno straccio di Blaziken Anche normale Senza reverse Senza niente Dico Sai Blaziken è Blaziken Però Io mi accontento Comunque spero che il video vi sia piaciuto In descrizione trovate sempre il link per Instagram Se ancora non siete iscritti al canale Magari iscrivetevi a noi Ci vediamo come sempre al prossimo video Bye bye